Come dice il detto, il riso abbonda nei ristoranti cinesi. Non so se il detto dice veramente così, però a proposito di ristoranti, voi siete già andati a Cerafuori, gnam gnam, con queste nuove aperture? Dai, vi ho visto, guarda che faccia stanche. Ieri avete fatto i bagordi al ristorante, dite la verità, avete fatto le ore piccole. A che ora siete andati a letto? Alle 21.45, dite la verità. Si ritorna un pochino alla normalità, grazie anche ai vaccini, e in effetti insomma siamo arrivati, adesso io perché non c'ho tempo, perché se no se avessi tempo ti pare che io non vi accennerei almeno, insomma hai circa 13 milioni di vaccinati che ci sono in Italia, almeno con la prima dose, vi parlerei, perché in effetti i centri vaccinali funzionano a pieno ritmo. Oddio, pieno ritmo. Non ci sono ancora quei numeri, diciamo, che aveva preventivato il generale Figliuolo. E allora lui, il generale, l'alpino, per invogliare tutti a vaccinarsi, ha aperto dei ristoranti, proprio all'interno dei centri vaccinali. Ristoranti dove si può mangiare il menù chef Figliuolo, fatto da lui. Ristoranti a 5 stelle, Michelin, 5-6 stelle, se le è messe lui, 3 da una parte e 3 da un'altra. Il menù è semplicissimo. Allora, il primo è Bucatini, Bucatini con l'ago alla Pfizer. Bucatini a Pfizer, Bucatini ai e oi oggi, peperoncino fra 20 giorni, con il richiamo. Poi, di secondo, si può avere di carne, involtini della nonna, ultraottantenne, adagiato sul letto d'ospedale. E attenzione però allo stuzzicadenti, perché ci sono stati già 6 casi su 20 milioni di persone a cui lo stuzzicadenti è nato di traverso. Oppure, se non vi va la carne, un bel secondo di pesce, gamberoni, flambe, gamberoni, flambe, quelli col cognac, sai quelli che... Allora, si prende il gamberone, cioè se parla, gli si dice dai, fatti il vaccino, si fa prima il vaccino al gamberone, poi si prende il gamberone, prendi il cognac, ce lo versi sopra e gli dai fuoco, fino alle 22, perché dopo le 22 c'è il copriflambe, quindi si ricopre il coprifuoco, non si può fare, a meno che i gamberoni non abbiano l'autocertificazione, questo bisogna chiederlo. E dice, vabbè, ma io sono vegetariana, per i vegetariani c'è la mozzarella in carrozza che arriva dal caseificio Capua, Ilaria Capua, la virologa, solo latte vaccino, mi raccomando. Oppure, in salata russa, Sputnik, che insomma già dal nome non è proprio invitante, vabbè, c'è quella. Come dolce, un bel millefoglie alla Navigli, tutte millefoglie assembrate insieme, uno sopra l'altro, senza mascherina, poi da bere, una bella bottiglia d'acqua ossigenata a temperatura ambiente, e un bel mezzo litro di amuchina della casa, servita fresca, così. Dice, ma per il conto si fa alla romana? No, si fa all'europea. Cioè, com'è? Mangiamo adesso e paghiamo con Recovery Fund. Quando arriverà... Ma io tutto questo non ve lo posso dire, perché non ho tempo, se no ve ne parlerei. Non ho tempo, veramente. Ma ti pare, se avessi un po' di tempo, non mi prenderei almeno un attimo per parlare di un importante anniversario di quest'anno, i 700 anni dalla morte dell'inventore della lingua italiana, tale Alighieri Durante, detto Dante. Durante, sì, che poi Durante in effetti è un avverbio, ma lui non lo sapeva di essere un avverbio, lui non lo sapeva perché, perché quando era nato la lingua italiana ancora non esisteva. La creò lui, e per un motivo ben preciso, perché Dante Alighieri era anche da bambino un bravo ragazzetto, andava a scuola in orario, per carità, era di buona famiglia, se la cavava, aveva quasi tutte le sufficienze, però il latino capoccione non gli entrava, non gli entrava. Lui veramente non lo voleva imparare, questo latino. Come si dice in volgo, era una zappa. Il latino, il povero Alighieri, era una zappa. E insomma, infatti, a scuola, un giorno la maestra, la maestra Di Mario, sono quelle maestre latine, quelle... E che abbiamo iniziato a mangiare, domus deus ad aus, diciamo. Oggi, 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 oggi interrogamos, interrogamos, regista, durante Alighieri, ma magistra, ma sempre mi interrogamos, e Alighieri, sei il primo dell'appellum, vides, Alighieri, Beatrice, Caronte, delle vigne, Francesca, Paolo, Ogolino e Virgilio, tocca a te, come Dixit, a chi tocca, se non se ingrugna, no? E insomma, siccome lui non si fece interrogare, la maestra disse, allora, Alighieri, domani, compitum scrittum, dilatinum. E Dante, tornando a casa, ma rimampestata, maiala, maiala ampestata, a me, chi me l'ha detta a me, io non lo so, un migarba al latino, un migarba, ma, maiala, era veramente volgare, era volgare, perché c'era solo quello, l'italiano ancora, non era stato inventato, e allora, arrivato a casa, e che mi, tra una parolaccia e l'altra, che mi inventamo, che mi, che porto domani, un lo voglio parlare in latino, un migarba, ma, ma, ma che mica son grullo, allora, e che, sai che ti dico, sai che fo, basta con il latino, io mi invento un'altra lingua, ti hai, vedrai domani, che ti invento, vedrai, e allora, tante prese un libro, tutto vuoto, chiaramente, senza parole, solo pagine bianche, perché la lingua italiana, ancora non esisteva, e incominciò, a scrivere, prese una penna d'oca, la intinse nell'inchiostro, e scrisse, il primo verbo, della lingua italiana, dunque, scrivo, che ti scrivo, ma è bambestata, provo questo, abbacchiare, abbacchiare, l'è bello, abbacchiare, suona bene, suona bene, mamma, come suona bene, abbacchiare, e che vorrà dire, abbacchiare, un lo so, un lo so, perché la lingua, non l'ho ancora creata, però in ordine affabetico, abbacchiare, l'è il primo, ora lo scrivo, e scrisse, abbacchiare, to, chiuse il libro, e se ne andò a dormire, questo verbo, se ne stava lì, tutto solo, in un libro gigantesco, fra pagine bianche, e la sua voce, rimbombava, nella casa, nella casa di Alighieri, eila, che ne suonè, e di cosa, sono solo, povero me, sono triste, sono giù di morale, sono abbacchiato, ecco cosa vuol dire, abbacchiato, che ne suono, eila, si lamentava, tutta la notte, e tanto che Dante, al piano di sopra, non riusciva a prendere, sono, eila, eila, ho paura di buio, aiuto, aiuto, ma chi l'è, chi l'è, scende in ciabatte, allora, oh, apri il libro, verbetto, e tu mi hai rotto, mi hai rotto proprio, non mi viene la parola, perché non l'ho inventata, però ti giuro, quando la invento, e la dico, e la divedi, se non la dico, tu mi hai rotto, e che c'è, e che c'è, e che voi, verbetto? Sono triste, signore Ligliere, sono, sono solitario, sono il verbetto solitario, e che voi? E che vorrei un po' di compagnia, compagnia, e va bene, ti ci metto un aiutino, te lo scrivo, ecco qua, riprese la penna d'oca, dunque, vediamo, ti scrivo, un paio di verbi, ausiliari, il verbo solitario, appena vide, i due ausiliari, disse, ma che mi fate la multa? Ma voi siete, i due ausiliari del traffico? No perché io, ho parcheggiato in seconda riga, e non ho neanche la macchina, sono a piedi, che mi fate la multa? No, verbetto, non ti preoccupare, noi siamo due verbi ausiliari, ora ci presentiamo, piacere, io sono essere, e io sono avere, e tu chi sei? Io sono abbacchiare, sono il verbo abbacchiare, piacere. E mentre i verbi cominciarono a fare conoscenza, Dante richiuse il libro, e riandò a dormire. Mo sarà stata l'atmosfera familiare di casa Lighieri, sarà stata anche l'aria frizzantina della primavera fiorentina, fatto sta che per tutta la notte i verbi fecero amicizia, anzi, più che amicizia, durante la notte i verbi si coniugarono, e ora una concordanza, e ora un predicato verbale, e ora una copula, soprattutto la copula, la mattina dopo, quando Dante si risvegliò, Maremma impestata, e come so stanco, che giornata di merda! Sempre in volgare, perché ancora l'italiano non l'aveva fatto, Maremma guardate, ha riaprì il libro, e non vi potete immaginare la sorpresa negli occhi del sommo poeta, quel verbetto così solitario, con i verbi ausilari, si era riprodotto, su quelle pagine, c'erano un sacco di verbi sparsi, siiii, ma 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 ma, dai, giochiamo tutti insieme, dai, ora gira, gira tonto, casca il mondo, vieni qua, oh je je, oh la la, dai giochiamo, venite qui, oh la, eri tu, numero, numero tre, ah, da una parte c'erano, dire, fare, baciare, che continuavano a copulare, oh basta, la finite, dai, venite a giocare con noi, giochiamo a mamma e figlia, no dai, giochiamo al dottore all'ammalata, da un'altra parte c'erano, mangia, prega, ama, da fianco c'erano, dormire, salutare, autostop, tatatarata, tatatarata. Da un'altra parte ancora c'era, provare, 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 insomma, così i verbi c'erano quasi tutti, erano diventati tantissimi, erano un esercito di verbi, un trionfo, un'orgia di verbi, verbi di tutti i tipi, verbi attivi, verbi passivi, verbi transitivi. C'erano i verbi irregolari, i verbi difettivi, perché all'epoca, all'epoca di Dante, si poteva ancora dire irregolare e difettivo. Oggi possiamo solo dire verbi diversamente coniugabili. E poi in basso, in un angolo della pagina, nascosto fra le pieghe, c'erano i verbi servili. Buonasera signor Dante, scusi, siamo a disposizione signor Dante, quando vuole noi siamo sempre qui, non si preoccupi. La nostra faccia sotto i piedi suoi, veramente si può anche muovere, grazie signor Dante, sempre a disposizione. Certo, sembrava abbastanza, ma per creare una nuova lingua non bastavano i verbi. Sì, bisognava mettere nel libro un po' di parole sfuse, sostantivi, aggettivi, nomi, cose, città, fiori, frutta, lettere e testamento. E il grande maestro riprese la penna e cominciò ad abbozzare così dei versi. Però, non avendo tutte le parole a disposizione, perché te stai inventando, ce n'erano tante, ma insomma, intanto appunto qualcosa, poi vedrai in qualche modo, ricorreggo i miei appunti. Allora, vediamo un po', ma rimampestata, nel mezzo del cammin, nel mezzo del cammin, batte la pesca, mi ritrovai per una selva, una selva cosa, che la dritta via era, ma rimampestata, hai quale a dir, qual era, ma a prendere. Ma intanto scrivo così, casomai, correggo dopo. Infatti, mano a mano, componeva e correggeva, correggeva e componeva. Oddio, alla fine qualche appunto, secondo me, qualche appunto gli è rimasto sospeso, perché lui era il sommo poeta, era il più grande di tutti, per carità. Ma non mi dite che vuolsi così, colà dove si può, e ciò che si vuole significhi qualche cosa, anzi, non l'ha ancora corretto, si capisce che è messo così alla San Fasò. O po' pesata, po' pesata maleppe, si capisce, ma che c'è un senso, è straniero, si capisce che non è una lingua di senso compiuto, è che si è dimenticato, ha detto, poi lo faccio, andava di fretta, poi è sopraggiunta la morte, buonasera. In ogni caso, il sommo poeta aveva composto la divina commedia. Tre cantiche, ognuna di 33 canti più un prologo, 14.000 versi in terzine con rime alternate, ma soprattutto 12.800 vocaboli nuovi d'epacca, diversi l'uno dall'altro. Insomma, la lingua italiana era nata. Purtroppo oggi però, nel nostro linguaggio, usiamo sempre meno vocaboli, e questo non è un bene. Don Milani, nel 1967, nel suo libro Lettere ad una professoressa, scriveva L'operaio conosce cento parole, il padrone mille, per questo lui è il padrone, perché è accertato che una buona proprietà di linguaggio aiuta a sviluppare la mente e anche i rapporti interpersonali. E allora per questo ringraziamo Dante, che odiava sì il latino, ma ci ha regalato una lingua nuova bellissima, e tutto per amore di Donna Beatrice, che a dire la verità, Donna Beatrice non era manco sua moglie, no, la moglie era un'altra, Gemma Donati. Tant'è che quando i vicini di casa, in piccioni, gli chiedevano, Messer Dante, e che l'è con questa Donna Beatrice? Chi l'è, chi l'è? E lui rispondeva a Serafico, ah Donna Beatrice, l'è un'amica, l'è un'amica!